Viaggiare è proprio utile, fa lavorare l'immaginazione, tutto il resto è delusione e fatica. Il viaggio che ci è dato è interamente immaginario, ecco la sua forza. Va dalla vita alla morte. Uomini, bestie, città e cose, è tutto inventato. E' un romanzo, nient'altro che una storia fittizia, lo dice di tre, lui non si sbaglia mai. Grazie a tutti. E poi in ogni caso tutti possono fare altrettanto, basta chiudere gli occhi e dall'altra parte della vita. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.